Non si tratta ancora del vero progetto, ma la strada è stata tracciata. Ieri la Giunta Comunale ha adottato lo studio per la riqualificazione del tratto di costa che da Mergellina arriva fino a Via Partenope, un lavoro realizzato in seguito all'accordo di collaborazione scientifica con l'Università, grazie al quale sono stati redatti studi e ricerche preliminari per l'avvio di una progettazione nella quale coinvolgere il mondo accademico, le imprese e gli altri soggetti interessati, fino ad arrivare anche ad un concorso di idee internazionali. Le opere saranno distinte in tre lotti e l'auspicio è di aprire i primi cantieri entro febbraio per il tratto Via Partenope e Molosiglio, su cui è già stata avviata la redazione del preliminare che sarà presto messo a gara. L'amministrazione ha anche illustrato alcuni degli elementi fondanti del ragionamento scientifico che ha condotto a proporre idee come la pedonalizzazione, la previsione di un'arena stabile sulla rotonda Diaz ed uno spazio qualificato dedicato all'attività produttive, un percorso che parte dalla storia del lungomare per considerare la relazione fra città, spazio pubblico, arenile e mare, oltre al rispetto delle norme di tutela. Il progetto di lungomare è l'inizio di un dibattito, nel senso che adesso si apre una fase rapida però importante perché ci sarà l'apertura molto laica, molto seria e molto vera nei confronti di tutta quella parte della città che vuole offrire un effettivo contributo, che il progetto di lungomare ha una sua razionalità, questo l'abbiamo in qualche modo anche sviluppato non solo con la sovrintendenza ma anche con gli altri enti, cioè quello di dare un'idea di lungomare che abbia una sua razionalità e una sua armonia da posillipo fino al molosiglio e questa è una cosa che ci chiese anche la sovrintendenza e che poi comunque il tutto procederà da un lato con una sua rapidità ma dall'altro anche con una sua particolare attenzione al territorio, cioè nel senso si va per lotti, in modo tale che la parte più delicata per la mobilità della città, cioè quella diciamo via Caraccio, via Acton, sarà l'ultima parte riqualificata e là non ci saranno interventi particolarmente significativi, cioè gli interventi particolarmente significativi andranno di pari passo con l'apertura della metropolitana della linea 6. L'obiettivo è cercare di partire con l'inizio dell'anno, gennaio-febbraio con i lavori, quindi con il cantiere di Piazza Vittoria-Morosiglio. Nel momento in cui finiscono i lavori, come io spero per marzo-aprile 2014, la città del mondo capirà che significa quando parliamo di un lungomare liberato e riqualificato, cioè che già adesso il lungomare più bello del mondo, quel tratto riqualificato sarà un colpo d'occhio. Il tratto da Borgomarinari a Molosiglio, i cui lavori si faranno contestualmente a quelli di Piazza Vittoria o Borgomarinari, si può prevedere una pedonalizzazione meno radicale, perché ci sono delle vie di accesso e quindi si può lavorare su una modulazione diversa. Poi non so se Piscopo l'ha detto, se non l'ha detto lo dico io, in questo progetto c'è l'arena su Rotonda Diaz, che era quell'immaginario straordinario della Coppa Davis, che noi vogliamo fare stabile, cioè noi vogliamo fare un'arena che sia l'arena della musica, della cultura, del teatro, un luogo stabile che ospite eventi. Poi immaginiamo una pedonalizzazione, anche questa radicale che vada da Rotonda Diaz fino agli imbarchi, dove noi vorremmo costruirla quella parte soprattutto per le attività economico-commerciali. Cioè noi immaginiamo che là si apra un bando innanzitutto per gli operatori della zona, ma non solo, cioè quello di prevedere un luogo del commercio qualificato. Oggi noi andiamo a definire la tempistica, quindi se tutto va come deve andare, noi per la primavera 2015 abbiamo chiuso.